C'è addirittura un rapporto di Quintini che è datato 23 gennaio 1861, quindi allo stesso giorno della strage. Parla della strage, non è vero che Quintini è l'unico che parla di 60 morti, quindi viene smentito dai suoi stessi, non è che parlano di 30. Le possono dare poi tutti, anzi dovete avere anche delle fotocopie a casa, è però l'antico storico, lo Stato Maggiore, l'eserchio è l'unico che parla della strage di scuola. Io vi prego di fare un applauso perché abbiamo avuto lo sconso della contina, bellissimo, le precise azioni sono al ridosso di noi che vi ascoltiamo.